Continuando sempre con l'argomento simple present, nelle sue forme negative e interrogative, analizziamo adesso i verbi ausiliari, ovvero to be e to have. Una piccola premessa va subito fatta per la prima persona singolare del verbo essere, ovvero I, io, innanzitutto già differisce dalle altre, perché si dice I am, ricordando, facendo un piccolo ripasso e non I are. Inoltre non può essere contratta, perché non si può dire I amant, deve sempre e comunque rimanere nella sua forma estesa, anche se è una piccola parentesi, l'aggiungerò dopo quando toccherò l'argomento interrogativa. Per tutte le altre persone invece basterà seguire la regola dell'affermativa, insomma, se vorremmo utilizzare la forma estesa e aggiungere not, oppure utilizzare la forma contratta, con le regole che ho consigliato prima, nel senso, se staremo comunque parlando con qualcuno faccia a faccia, potremmo tranquillamente utilizzare la forma contratta, oppure se staremo mandando un messaggio a un nostro amico, ma se il tono sarà formale della nostra conversazione, del nostro messaggio, della nostra lettera, delle nostre mail, è consigliato utilizzare questa forma, però quella estesa. Per cui avremo esempio you aren't, he isn't, she isn't, o they aren't, oppure he is not, you are not, eccetera. Passando invece al verbo avere, si nota subito che c'è una parte in più che nella forma affermativa non c'era, ovvero il got. Il got in questo caso va a sottolineare il fatto di possedere, o in questo caso di non possedere qualcosa, è semplicemente la forma estesa del verbo avere, che in questo caso è, sia nella forma interrogativa e quella interrogativa negativa, è necessario, è richiesto, mentre invece nella forma affermativa no. In questo caso avremo il soggetto, esempio I haven't, I haven't got any pens, non ho penne, o I haven't got any money, non ho soldi, o she hasn't got any pencils, non ha matite, eccetera. Il got in questo caso sarà assolutamente necessario per dare significato al nostro, alla nostra frase, insomma a quello che stiamo dicendo. Passando invece alla forma interrogativa, si nota subito che il verbo ausiliare, insomma, è abbastanza forte, esattamente come il verbo modale, da poter stare in prima posizione. Utilizzando l'inversione, ovvero qua per la prima persona singolare, I am, avremo am I, una frase magari tipica che potremmo chiederci tra noi, tra noi stessi quando magari ci vestiamo la sera. Am I ready to go? Cioè, sono pronto per andare? O am I ready to do it? Cioè, sono pronto per farlo? Oppure, qua come nell'esempio, are you ill? Sei malato? O is she ill? È malata? La forma è molto semplice, insomma, basterà invertire quella affermativa, sostanzialmente, o potremmo fare anche quella lì interrogativa negativa, assolutamente. Qui la piccola parentesi che volevo aprire era legata al I am not. In questo caso, per esperienza personale, posso dire che, l'ho sentito talmente tante volte, il fatto di utilizzare aren't I per dire non sono io e poi il resto della frase, anche se grammaticalmente, cioè linguisticamente, errato, perché, come detto prima, I am non si può, o I am not non si può contrarre, aren't I è talmente tanto utilizzato nella lingua parlata che ormai come forma è accettata, semplicemente da tutti, anche se tutti sanno che è sbagliata. Ogni lingua, diciamo, ha queste falle, se così vogliamo chiamarle, che vengono accettate da tutti, perché semplicemente utilizzate dalla maggior parte delle persone. Passando invece al verbo avere, avremo la stessa regola del verbo essere, perché essendo un verbo ausiliare è forte e quindi può rimanere da solo, ma in questo caso non ci dovremmo dimenticare del got, nel senso che l'esempio lo sottolinea molto bene. Has Mark got a bike? Cioè, Mark ha una bici? O Have you got a bike? Hai una bici? Utilizzeremo come prima parte il verbo coniugato, che in questo caso è all'affermativo, ma può essere anche alla negativa, per enfatizzare magari un determinato messaggio, il soggetto che ci serve, il got, subito dopo il soggetto, e poi l'oggetto o quella cosa che vogliamo dire, in questo caso una bici. Grazie.